Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo e fantastico video. Oggi giocheremo a Mario Kart sulla Nintendo Switch a battaglia. Quindi iniziamo e scegliamoci il nostro personaggio. Cioè dobbiamo scegliere quel colore. Questo, poi scelgo questo e poi questo avremo. Quindi prendiamo questo e poi non lasco il blu. E iniziamo. Abbiamo scelto il mondo e iniziamo. Ok. Dobbiamo scegliere. Aiuto. Numero 1 E in galera. Dai. Venite già a salvare. No, già abbiamo perso. Ragazzi, questo è stato il video. La prossima volta lo rifaremo. E vedremo se la prossima volta vinceremo. Quindi, ciao a tutti. Al prossimo video. .